sulle quattro ore di tonno mi sono trovata soltanto per aprire le caselle e oggi è il quattro dicembre abbiamolo una candelina bianca che ha un profumo buono ma un po anonima il carissimo essence oggi cosa ci regalerà secondo me un burro cacao russettino vediamo se l'ho peccato che sempre io non lo uso lo regalerà gioiellini invece la casella è grande è una collana di per sé non mi fa impazzire boh ti regali un po così oggi passiamo al new entry amabile con la casella 4 e abbiamo una piccola spilla a forma di lettera con il logo di amabili è super carina ora tre caselle solo di makeup e skin care clinique oggi da una cosa che in barattolino immagino intorno occhi io ho un debole per questi prodotti skin care quindi mi piace la casettina ci regala qualcosa tipo una matita pennello pennello si 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 il pennello è sempre utile appunto altro mica è un ombretto shimmer o figo 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 tipo sui toni del rosa bello molto bello passiamo al cibo questa sicuramente una barretta vediamo però che cosa una barretta batter finger ok sono tipo quelle barrette al all'arachidi le mangerà come sempre mio fratello e in quest'altro anche la casella è molto simile non vorrei fosse la stessa cosa no ragazzi no non pensavo di poter trovare una cosa del genere io non mangio questo coso da anni e anni non è solo quello poi no vabbè questo già si occupa le prime posizioni ve lo dico il 4 di questo calendario una casella grande vediamo se pesa palesemente una crema che ma cosa una crema proteica al carmello salato l'ho provata si è molto buona fotina di oggi invece o eccomi qua questo calendario una volta aperto formerà un poster ed ecco appunto con i calendari che io ritengo i migliori e cerchiamo la casella 4 eccola qui sono quasi certa che sia un rossetto un rossetto vediamo un po il colore a questo è un bel calino un bel rossetto con un colore figlio troppo caldo forse ci soddisfa a non avevo visto questa parte glow play in che senso l'ultima casella è questa già voluti che è super gigante sono curiosa cosa 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 non capisco cos'è è qualcosa anti imperfezioni e questo l'abbiamo capito ma tipo un siero un correttore è un roll on anti imperfezioni boh che vedevo di ed eccoci qua all'ultima casella di oggi guardate quanto è grande questo vediamo un po ah peggio occhi si 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 mi servivano portiamo dal fatto che mi servivano quindi sono contenta e stasera li proveremo belli questo mi è utile l'abbiamo 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 Grazie a tutti